Ciao ragazzi, ieri abbiamo parlato di Gaudì, adesso fermiamoci un attimino a vedere questi due edifici da lui progettati a Barcellona, che sono Casa Batlò e Casa Milà. Ieri abbiamo parlato chiaramente del rifiuto di quest'architetto di usare la linea retta, vediamo in pratica cosa vuol dire, se noi vediamo questa facciata già ci accorgiamo che non esiste una linea retta. È tutto curvato, è tutto similiante alle forme della natura, perché non la linea retta ma queste forme curvate, proprio perché la natura non prevede queste linee rette così come abitualmente le vediamo negli edifici, ma la natura è tutta curva, è piena di curve, è piena di superfici che si avvolgono, è piena di superfici di vari materiali. Ecco, vediamo che lui costruisce questi edifici, pensa che l'architettura debba costituire questi spazi più naturali possibili. Nella sua filosofia, nel suo concetto, la naturalità nasce da questa non ortogonalità delle superfici. Qui vediamo proprio l'illusione del movimento, questo soffitto che sembra una spirale che si muove intorno al lampadario. Altra caratteristica che possiamo vedere in queste opere, in quest'opera diciamo, è l'uso di queste paste vetrate, no? Di queste paste vetrate con cui lui fa le tegole o fa questi elementi, usa queste mosaici anche di paste vetrate, oppure questi dischi di ceramica, anche questi dischi di ceramica. Questo gli permette non solo di realizzare queste superfici particolari, fantasiose, colorate, ma gli permette anche appunto di creare questi ambienti onirici, questi ambienti che sono vicini al sogno, se vogliamo, più che alla realtà. Questo è un altro bel esempio di quello che dicevamo. Questo qua si chiama Casa Milà, è un grosso condominio per così dire. Infatti ora vediamo nelle prossime immagini, vedete, è un grande edificio e anche in questo grande edificio per più appartamenti, vediamo sempre che è come se fosse una, la facciata è come una roccia scolpita, non un edificio fatto, ma una roccia scolpita, come se noi abitassimo dentro una roccia e avessimo scavato le caverne. Un altro elemento importante è l'uso del ferro, guardate queste ringhiere, l'uso del ferro battuto, queste ringhiere che sembrano delle alghe, sembrano, ecco qui si vede benissimo il confronto fra le foglie dell'albero e la ringhiera. Anche questo è un altro modo di utilizzare l'artificio, l'elemento artificiale, che sarebbe la ringhiera in questo caso, il ferro, ma farlo diventare come se fosse naturale, ossia utilizzare, ispirarsi alla natura per realizzare degli elementi che non sono naturali, ma sono opera dell'uomo, ma sicuramente comunque l'uomo si muove a imitazione della natura. Questo piccolo filmato appunto per spiegare con immagini questi concetti della linea curva, dell'ispirazione alla natura, ed è anche del sogno, perché queste forme sono tutte diverse una dall'altra, creano degli ambienti che sembrano quasi venire fuori da un libro di favole, e non da una progettazione architettonica tradizionale. Va bene, per oggi è tutto, grazie, ciao.